Ciao ragazzi, sono Eppi! Benvenuti anche oggi su Mega Wow! Quindi, incominciamo con una robotica sfida sull'esagono di Ready to Robot! E allora, preparatevi per una pioggia di rottami! E slide! Partiamo! Benvenuti a Ready to Robot! La super sfida dove la tecnica incontra i rottami e l'attacca-brighe più cattivo vince! Ma ecco il primo guerriero di oggi! È un esperto picchiatore che vi tirerà su per poi scaraventarvi a terra! Remix! I miei cannoni acustici stenderanno chiunque si imbatterà nella loro strada! A questo guerriero invece scorre il ghiaccio tritato nelle vene! Lui vi congenerà per poi frantumare i vostri sogni! Eeeh! Termo! Ehi, scarpette rosse! Sei venuto a ballare oppure a combattere? Vedrai! Avete sentito, amici? Questi guerrieri sono Ready to Robot! Però Remix sta affondando gli artigli! Ma Termo sta per attivare il super congelatore! Preparati a tremare! È incredibile! Remix è riuscito a frantumare il ghiaccio! È il momento di rompere i ghiaccio! Un raggio di Remix piomba sull'esagono! Termo ha perso qualche pezzo ma non la sua grinta! Ora si dirige verso il muro dei rottami! Termo è inarrestabile e indistruttibile! Ma non è immune al gelo! Uh! Una bufera di slime! Remix sta dando a Termo un assaggio della sua medicina! È una pillola molto amara da ingoiare! E per mia delizia il bellutato e dolce suono di un'esplosione acustica! Ma che freddo! Chiamate subito i soccorsi! Questa è una valanga acustica! Remix ce l'ha fatta! Remix ce l'ha fatta! Sta andando avanti! Remix ormai è a solo un passo dalla battaglia finale! Ci stiamo avvicinando verso il meltdown! Prossimamente su Ready to Robot! Nell'ultima battaglia qualche sciocco ha rubato il mio bot blaster! Io ti braccherò e poi ti schiaccerò! Me la pagherai! Nella prossima sfida vedremo Termo contro Hardware! Qui a Ready to Robot! Che forte Remix! Ha battuto Termo con il suo slime congelante! Chissà che freddo! Continuate a seguirmi su Mega Wow per scoprire chi vincerà il meltdown! Ciao e ricordatevi di mettere like! Ciao!